Nel video di oggi vi daremo 10 consigli per cominciare la dieta dei gruppi sanguigni. Se siete nuovi questa guida è perfetta per voi, se invece la seguite già da tempo sarà utile per rispolverare alcuni concetti. Prima cosa bisogna sapere il proprio gruppo sanguigno. Spesso viene riportato nella scheda medica, altrimenti puoi fare il test del gruppo sanguigno in una farmacia oppure in una clinica privata. Una volta scoperto il vostro gruppo sanguigno potete cominciare ad informarvi su quali sono gli alimenti compatibili con appunto il proprio gruppo sanguigno. In questa dieta gli alimenti vengono suddivisi in categorie. Ci sono gli alimenti benefici, neutri e sconsigliati. Tutte queste informazioni potete trovarle nei libri ufficiali della dieta del gruppo sanguigno. Nella descrizione sotto il video potete trovare tutti i link utili sia per i libri che per i video che saranno molto utili alla vostra ricerca. Nonostante gli alimenti siano divisi in categorie, ci sono alcuni alimenti in comune a tutti i gruppi sanguigni che vanno eliminati. Questi alimenti sono il glutine, il latte e i derivati e la carne di maiale. Se eliminate questi alimenti non significa che non avete nulla da mangiare. Non impanicatevi. Perché introdurrete tantissimi alimenti nuovi. Ad esempio legumi che magari non avete mai considerato prima, gli pseudocereali come la quinoa, il grano saraceno, l'amaranto. Infatti, se ci pensate, sono soltanto tre gli alimenti che vengono sconsigliati a tutti e che andrete appunto ad eliminare dalla vostra alimentazione. E quindi vi rimane tutto il resto, una grandissima varietà di ortaggi, i legumi, gli pseudocereali, i cereali senza glutine, come il miglio e il riso. Aggiungiamo anche la carne, il pesce, le uova, i semi oleosi, la frutta secca. Quindi come vedi, l'elenco di alimenti che puoi consumare è ben più grande dei tre alimenti che sono sconsigliati. E già questa cosa qui dovrebbe motivarti. Il quarto consiglio utile è imparare le combinazioni alimentari. Nella dieta dei gruppi sanguigni ci sono delle combinazioni sconsigliate, come per esempio i legumi con la frutta, oppure i cereali con la frutta e tutti gli zuccheri. Ovviamente si tratta di cereali senza glutine, perché quelli con il glutine sono sconsigliati a prescindere. Le combinazioni alimentari scorrette possono influire in modo negativo sulla salute dell'intestino, provocando degli effetti collaterali, che alla lunga possono avere delle ripercussioni negative su tutto l'organismo. Sempre nella descrizione qui sotto al video potete trovare delle risorse ufficiali dove vi verrà spiegato l'argomento nel dettaglio. Il prossimo step da fare è quello di scegliere alimenti semplici e facilmente reperibili, in modo da facilitare la transizione. Non è assolutamente necessario cercare la farina più strana e introvabile per cominciare questo stile di alimentazione, ma soprattutto non cadete nella trappola di dover svuotare il vostro portafoglio per fare la spesa in modo diverso. Anzi, fare la spesa dovrebbe addirittura risultare più facile, perché andrete a eliminare gli alimenti di cui non avete bisogno. E andrete appunto a sostituirli con gli alimenti benefici. Le verdure, i legumi, le uova, i semi oleosi, i cereali senza glutine non hanno costi molto elevati. Stessa cosa per il grano saraceno. Inoltre sono alimenti che facilmente ora si trovano nei supermercati. Se avete la possibilità di fare la spesa al mercato, poi potete anche risparmiare. Nella descrizione qui sotto troverete un nostro video dedicato appunto alla spesa fatta al mercato. Mi raccomando, andate a vederlo. Create un menu settimanale semplice con i pasti principali della giornata. In questo modo sarete meno persi e più motivati nel continuare, perché avrete tutto già programmato e saprete cosa mangiare. Sul nostro sito potete trovare tantissime idee, anche per chi ha poco tempo e non ama molto cucinare. Potete inoltre anche scaricare un menu già fatto per la settimana, che potete seguire così com'è, oppure modificarlo in base ai vostri gusti. Una volta creato il vostro menu, prendete due ore della vostra settimana per dedicarvi alla preparazione di alcuni alimenti che si conservano in frigo senza problemi. Ad esempio il riso, la quinoa, le uova sode. Pulite poi gli ortaggi come carote, patate dolci, barbabietole e conservateli in frigo in contenitori di vetro. Preparate inoltre crepes, piadine, torte e pani, che potete poi affettare e congelare per la settimana. In questo modo sarà molto più facile assemblare un pasto sia per voi che per la vostra famiglia. Ecco perché partire proprio dalla lista della spesa è così importante, anzi è fondamentale. Dividetela in categorie e per ogni categoria scegliete quali sono gli alimenti principali che dovete inserire nel vostro carrello. Su questo argomento abbiamo pubblicato un video nel quale mostriamo quali sono gli otto alimenti che secondo noi devono esserci sempre nella vostra dispensa. Il video potete trovarlo sempre nella descrizione qui sotto. Scegliete inoltre sempre alimenti di stagione. In questo modo il prodotto è più sano e più sostenibile perché ha raggiunto la maturazione nel suo periodo più congeniale e nel modo più naturale possibile. Inoltre questa scelta influirà decisamente anche sulle vostre tasche e quindi risparmierete. Il nostro libro Buono e di Stagione è proprio una guida che può esservi utile in questo percorso, con ricette in base alle stagioni, tabelle stagionali e liste della spesa. Scegliete ricette semplici e con pochi ingredienti. È inutile complicarsi la vita scegliendo ricette piene di ingredienti introvabili e carissimi, soprattutto se siete alle prime armi. Ciò non farà altro che confondervi e complicarvi il processo di un'alimentazione che di per sé si basa su alimenti semplici e reperibili per tutti. Sul nostro sito e sui nostri libri potete trovare una grandissima raccolta di ricette per le persone anche che non hanno molta voglia o tempo da passare in cucina. Date un'occhiata qui sotto nella descrizione. Ricordate sempre che cambiare alimentazione è un investimento a lungo termine, non è soltanto una dieta temporanea. Va fatto con una mentalità aperta e con la volontà di prendersi cura del proprio corpo. Se sentite il desiderio di cambiare ma vi manca la motivazione personale oppure sono altre persone esterne a demotivarvi, la migliore soluzione è chiedere aiuto e consigli. Ci sono tantissime persone come voi che sono pronte a sostenervi e motivarvi. Potete iscrivervi al nostro gruppo Facebook nel quale una comunità di oltre 20.000 persone si confrontano ogni giorno condividendo consigli e ricette. Bene, speriamo che questi consigli vi siano stati utili. Se sì, fatecelo sapere nei commenti e condividete con noi la vostra esperienza perché può sempre essere utile a chi è nuovo. Per oggi è tutto, ci vediamo nel prossimo video.